Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui solidi di rotazione oggi vedremo l'ultima lezione dedicata ai solidi di rotazione composti. Abbiamo già visto in passato cosa succede se noi prendiamo più poliedri semplici, quindi un prisma, un parallelepipedo, un cupo, una piramide, li combiniamo per andare a costruire un solido composto. Ora vediamo cosa succede nel caso di solidi di rotazione. In particolare l'obiettivo della lezione di oggi sarà vedere come si può disegnare il solido generato da rotazione in un poligono qualsiasi. Noi andremo a vedere tre casi particolari e poi in classe vedremo di costruire altri tipi di soli di rotazione composti. Chiaramente poi una volta capito la forma generata da questa rotazione dovremo essere in grado di calcolare sia l'area delle superfici sia il volume di questi soli composti che già come avevamo visto nel caso dei poliedri si potranno dividere in due grandi categorie, i solidi convessi e i solidi concavi. Cominciamo con il primo esempio. Consideriamo la rotazione di un triangolo rettangolo. Noi abbiamo visto precedentemente come facendo ruotare un triangolo rettangolo per un'asse passante per uno dei suoi cateti andiamo a generare un cono. Ecco, ora vediamo cosa succede se invece facciamo ruotare il nostro triangolo rettangolo intorno alla sua ipotenusa. Quindi questo è il nostro triangolo rettangolo. Quindi BC è uno dei cateti, AC è l'altro cateto e AB è l'ipotenusa. CH sarà l'altezza relativa all'ipotenusa. Ecco, vi ricordo per disegnare un solido di rotazione cosa si fa? Prendiamo il nostro poligono di partenza, lo ribaltiamo, quindi ne creiamo una sua immagine all'altra parte, e poi andiamo a vedere quali sono i vertici che vengono ruotati. Allora, il vertice A non si sposta dove era, lo stesso vale per B, il vertice C invece farà una rotazione completa che andremo a indicare con questa linea. E se cercate un po' di visualizzare cosa viene fuori è chiaro che quello che otterremo è un doppio cono. Ora, quello che stiamo facendo ora è un caso particolare perché in realtà il doppio cono è quello che viene fuori in generale dalla rotazione di un triangolo qualsiasi intorno ad uno dei suoi lati. In realtà poi se prendiamo un triangolo, un tusangolo, lo facciamo ruotare intorno ai due suoi lati più piccoli otterremo un cono con una cavità conica. Però, a parte questo caso particolare, otterremo sempre un doppio cono. A questo punto bisogna vedere i vari elementi del nostro triangolo rettangolo di partenza a che cosa vanno a corrispondere nei due coni. Il primo cono lo indicheremo con queste lettere in blu, il secondo con queste in verdi. Quindi il primo cono corrisponde a questa porzione qui del solido generato, il secondo cono corrisponde a questa porzione qui. Allora, l'altezza relativa all'ipotenusa, come potete ben capire, andrà a costituire il raggio di base per entrambi i coni. Questi due coni hanno in comune la base, e questo sarà molto importante nello studio successivo. A H, questa porzione ipotenusa, e vorrei un po' che vi ricordaste, no? Questa è quella che noi chiamiamo la proiezione del cateto AC sull'ipotenusa. No, questa proiezione andrà a costituire l'altezza H del primo cono. L'altra porzione dell'ipotenusa, che poi non è altro che la proiezione del cateto ECB sull'ipotenusa AB, quindi questo segmento HB, va a costituire l'altra altezza, altezza del secondo cono. Il cateto maggiore AC va a costituire l'apotema del primo cono, eccolo qui, il cateto minore BC va a costituire l'apotema del secondo cono, ed eccolo qua. Veniamo ora alle formule. Quando noi abbiamo un solido di rotazione composito convesso, in questo caso formato da due solido di rotazione semplici, ma avremo anche casi in cui saranno tre o più i solido di rotazione semplici che andranno a costituire il nostro solido di rotazione convesso, la forma e il volume è molto semplice perché quello che dovremmo fare, come scritto qui, il volume del solido complessivo non sarà altro dato che dal volume delle singole parti che lo compongono. Nel nostro caso, di questo esempio qui, sarà dato quindi al volume del primo cono, quindi di questo cono qui, più il volume del secondo cono. Quindi nel nostro problema, una volta che noi avremo dei numeri a disposizione, dovremo studiare separatamente il primo cono, quindi trovarne l'area, il volume, eccetera, studiare separatamente il secondo cono, trovarne area e volume, e poi per il volume del solido complessivo basterà sommare i due volumi insieme. L'area totale di questo solido di rotazione si trova, penso possiate intuirlo semplicemente, semplicemente facendo la somma delle aree laterali dei due coni. Perché solo le aree laterali? Perché, come vedete, le due basi vanno a coincidere e spariscono dal nostro solido complessivo, quindi l'area totale di questo doppio cono non sarà altro dato che dall'area laterale del primo cono più l'area laterale del secondo cono. Vediamo ora un caso un pochino più complesso. Consideriamo un trapezio rettangolo A, B, C, D. Quindi dove A, B è la base maggiore, C, D è la base minore, B, C è il lato oblicuo e D, A, come anche C, H, è l'altezza del nostro trapezio rettangolo. Prendiamo questo trapezio rettangolo e lo ruotiamo di 360 gradi intorno alla base maggiore. Quindi, come al solido, cosa facciamo? Prendiamo il nostro trapezio rettangolo, lo ribaltiamo e disegniamo il percorso fatto dai vertici che vengono ruotati perché A non si sposta da dove si trova, B non si sposta, C e D invece compiono un giro completo e già potete visualizzare il tipo di oggetto che viene fuori e come è scritto qui, quello che otteniamo è un cilindro e un cono sovrapposto. Di nuovo abbiamo un solido in rotazione convesso. Vediamo, come già fatto nel caso precedente del doppio cono, a che cosa corrispondono le dimensioni del trapezio riguardo ai solido in rotazione che andiamo a ottenere. Partiamo dal cilindro. L'altezza del cilindro così generato non sarà data da tutta la base maggiore, ma solo da questa porzione qui, a H, che poi altro non è che la base minore, quindi la lunghezza della base minore corrisponderà all'altezza del cilindro. Di nuovo, come nel caso precedente del doppio cono, l'altezza del trapezio non sarà altro che il raggio di base di entrambe le figure. Entrambe le figure hanno di nuovo la base coincidente, quindi sarà sia il raggio di base del cilindro che il raggio di base del cono. L'altezza del cono, invece, sarà data da questa porzione qui, che altro non è che la differenza tra le due basi, no? Questo pezzo HB si ottiene facendo base maggiore meno base minore. Eccolo qui. infine, il lato obliquo, questo non dovrebbe sorprenderci, va a costituire l'apotema del cono. Quindi, molto velocemente possiamo vedere le formule, il volume, come ho detto precedentemente, essendo questo un solido convesso, quindi due solidi sovrapposti, semplicemente è il volume di tutto l'oggetto sarà dato dal volume del cilindro più il volume del cono. Quindi, ancora una volta, la procedura sarà di studiare separatamente il cilindro, studiare separatamente il cono e poi unire i risultati ottenuti con i due solidi. Per l'area totale il discorso si va leggermente più complesso. In realtà, vi anticipo che questa formula qui era valida anche nel caso precedente. Ma veniamo un attimo con ordine. l'area totale di questo solido rotazione da cosa sarà dato? Sarà dato dall'area totale del cilindro più l'area totale del cono a cui però dovremo sottrarre le parti che vanno a mancare. In questo caso vanno a mancare la base del cono che però è identica alla base del cilindro più una delle basi del cilindro perché i due pezzi si vanno a sovrapporre quindi come vedete ho scritto meno due volte l'area di base visto che l'ho controllato in blu è implicito che si tratte dell'area di base del cilindro ma di nuovo è identica all'area di base del cono. se ci pensate un attimo questa formula valeva anche nel caso del doppio cono perché se prendo l'area totale di un cono più l'area totale di un altro cono e tolgo due volte l'area di base laddove i due coni hanno la stessa base quello che ottengo come risultato finale non è altro che la somma delle aree laterali però questa formula diciamo è più generale e vale nel caso appunto di solidi sovrapposti chiudiamo insomma cercando di entrare nei tempi con un oggetto ancora un pochino più complesso cioè cosa succede se io prendo lo stesso trapezio di prima lo stesso trapezio rettangolo e questa volta lo faccio ruotare intorno alla base minore ecco quello che viene fuori è questo oggetto qui e penso che sia abbastanza chiaro capire che otterremo di nuovo un cilindro ma un cilindro più grande rispetto a prima ma questo cilindro invece di avere un altro oggetto sovrapposto presenterà una cavità questa parte qui una cavità a forma di cono ecco questo è il primo esempio di solido rotazione concavo e qui quindi le cose cambiano leggermente intanto come prima l'altezza del nostro trapezio rettangolo va a costituire il raggio di base sia del cilindro sia della cavità conica e il lato obliquo del trapezio rettangolo di nuovo va a costituire l'apotema il discorso si fa un pochino più complicato per quello che riguarda l'altezza perché questa volta l'altezza del cilindro all'interno del quale si troverà questa cavità è pari stavolta proprio la base maggiore del nostro trapezio invece come prima l'altezza del cono sarà data dalla differenza delle due basi base maggiore meno base minore perché è uguale al segmento bh ecco trattandosi di un solido forato è chiaro che questa volta il volume non sarà dato dalla somma dei volumi cosa dovremmo fare dovremmo studiare il volume del cilindro come se fosse un oggetto pieno trovare il volume di questo foro conico e poi andarlo a sottrarre al volume del cilindro pieno cioè come si dice spesso il volume di un solido forato è dato dal volume del pieno meno il volume del foro incredibilmente invece la forma dell'area totale non cambia non cambia perché se io prendo un oggetto e gli scavo un buco io vado a aumentare la sua superficie infatti ancora una volta l'area totale del nostro solido forato sarà data dall'area totale del cilindro più l'area totale del foro meno due volte ecco dovremmo togliere questa base qui ma non è solo la base del cono che dobbiamo andare a sottrare ma anche la base del cilindro che viene a mancare queste formule si dovranno modificare nel caso in cui il foro diventi passante vedremo in classe un esempio in cui per esempio abbiamo un cilindro con un foro cilindrico che attraversa parte a parte allora le forme e il volume non cambieranno ma cambieranno le formule per l'area totale e con questo chiudiamo questa serie di lezioni dedicate a solide rotazioni questo è tutto da mister Boscherini di lezioni di lezioni Grazie.